A tutte le donne dico che la prevenzione è molto importante ed è molto importante imparare a conoscere il proprio corpo, così da accogliere subito segnali di cambiamento. Alle donne che sono in cura do un grandissimo abbraccio e dico di continuare come stanno facendo, perché sono sicura che faranno benissimo e che tutto andrà al meglio.